eccoci qua buonasera a tutti e benvenuti a questa quarta lezione di fotografia questa sera parleremo del colore grazie vedo che siete molti già collegati sono felice perché anche molti amici che l'altra volta non sono riusciti a collegarsi questa sera ci sono quindi bene bene fa molto piacere vedere che ci siete ecco allora che dire questa sera parleremo appunto del colore nella fotografia questa è una lezione molto importante perché il colore spesse volte è un pochino trascurato perché tutti credono che la fotografia artistica sia soltanto quella in bianco e nero mentre invece il colore è un'importanza fondamentale della fotografia soprattutto perché tutti scattiamo fotografie a colori quindi capire cosa ci serve per far foto migliori delle foto comuni e bisogna conoscere un pochino almeno la bc del colore per poter interagire meglio durante i nostri scatti ma prima di iniziare diciamo la lezione come sempre farò vedere tre fotografie di alcuni studenti dico subito una cosa purtroppo leon sta dormendo perché gli fanno un pochino male i dentini quindi nonni sia in svizzera che in italia che volete vederlo mi dispiace anche questa sera non ci sarà l'altro ieri c'era ma questa sera purtroppo non credo ce la farà e almeno penso se si sveglia magari tra un pochino vediamo erica cosa dice se lo porta qua l'unico problema è questo perché adesso gli fanno un pochino male i dentini e quindi quando si sveglia urla tira le cose già una fase un pochino nervosa bene andiamo a vedere allora queste tre immagini che ci hanno mandato alcuni nostri studenti iniziamo da questa qui bene allora questo è uno scatto fatto da annalisa annalisa ci manda questo dettaglio che mi sembra di capire che è anice stellato credo a vederlo mi sembra anice stellato sì e allora che dire un'immagine molto fatta bene dal punto di vista tecnico nel senso che c'è un contro luce vediamo che la luce arriva verso di noi quindi il retro illumina diciamo il soggetto l'anice stellata e la parte diciamo dei gambi un pochino più lunghi sono più illuminati quindi guidano l'occhio a venire verso di me quindi come luce è interessante forse un pochino scura la parte in alto a sinistra vedo che leggermente scura in proporzione a tutta l'altra scena c'è una bella vignettatura intorno vedo che i bordi sono un pochino più scuri quindi come immagine interessante sia dal punto di vista tecnico che anche come messaggio molto diretta quindi questo contro luce a me piace anche la pulizia dell'immagine la vedo che la mette in evidenza quindi non crea elementi di disturbo lo sfondo perché c'è anche un po di bocchè un po di sfocato penso che hai utilizzato un diaframma aperto credono e poi oltre questo noto anche il fatto che questa vignettatura che concentra l'occhio guardare la parte centrale è un pochino forse un pochino troppo forte ecco questa la mia visione dell'immagine è un pochettino scura nei bordi un pochino troppo quindi la parte centrale forse la vignettatura è arrivata anche troppo nella parte dove c'è il soggetto nella parte centrale quindi forse avrei vignettato un pochino meno e avrei schiarito un pochino più le parti centrali questo la sto dicendo queste cose vignettare e schiarire non durante lo scatto ma nella post produzione perché allora la fotografia ripeterò sempre questa cosa si divide in tre aspetti luce composizione e post produzione sono questi tre segreti della fotografia luce composizione e post produzione fino a prima quando utilizzavamo la camera oscura era luce composizione e camera oscura ora luce composizione e post produzione sono aspetti molto importanti saperli gestire tutti e tre perché uno non esclude l'altro non vi fate ingannare di chi vi dice la foto è bella come esce dalla fotocamera perché vi dice una grande cavolata la foto è bella quando è completa cioè quando arriva la stampa quindi dal passaggio del scatto dell'inquadratura giusta quindi la luce giusta della post produzione che è fondamentale poter gestire e ottimizzare ogni piccolo dettaglio dell'immagine per poi stamparla ovviamente che la stampa rende reale la fotografia se no rimane un'immagine virtuale nel computer o sul web però se riuscite a stamparla ovviamente sempre meglio quindi direi questa immagine analisa è buona continua così magari ecco schiarisci un pochino più le parti centrali l'immagine sicuramente risulta più interessante sia a livello tecnico che a livello emozionale diciamo bene andiamo avanti ok questa immagine ce l'ha scattata invece chi è samuele samuele ci manda questa immagine è una panoramica di san marino ok quando arrivi in cima ok quando arrivi in cima san marino beh un'immagine molto interessante vediamo un panorama molto bello vediamo la distesa non so se si vede il mare forse perché da san marino credo che in cima riesce entra a vedere credo un pochino il mare però allora noto subito un difetto scusami ma sono così allora il difetto è la luce la luce proviene da dietro le tue spalle quando hai scattato quest'immagine bella come foto ricordo perché ti ricorda magari la salita sento leon che piange si è svegliato forse non lo so se si sveglia forse erica lo porta quindi non vi dico niente ciao paolo carli ciao maria poi chi c'è michele ciao a tutti e quindi ecco se leon si sveglia lo porta qua dai quindi però non vi voglio illudere se non lo porta qua ve lo saluto io dopo dai ok quindi la luce in questo caso come dicevo proviene da dietro le tue spalle quindi sta illuminando completamente la scena e questo purtroppo in fotografia come sempre detto appiattisce l'insieme è una bella foto ricordo perché le foto ricordo le possiamo fare in qualsiasi condizione tecnica anche se viene male anche sfocata micro mossa va benissimo una foto ricordo perché ti serve solo a ricordare la giornata o il momento ma una foto tecnica una foto artistica va fatta con diversi criteri che vanno sempre rispettati a mio avviso quindi ecco la luce da dietro le spalle non è tra le migliori la composizione vedo che va bene nel senso è divisa in terzi vedete non c'è troppo cielo non è a metà a metà quindi ci sono delle nuvolette che contrastano un pochino non so se l'hai fatta con un cellulare o con una fotocamera dalla risoluzione mi sembra un pochino più da un cellulare però non cambia niente il cellulare è sempre una fotocamera magari ripeto non adatta la stampa perché magari la risoluzione sempre un pochino bassa però diciamo si possono scattare delle fotografie con il cellulare senza problemi poi che dire dal punto di vista della composizione ecco è divisa bene c'è questa parte di strade al centro che fa una piccola curva s forse se fosse stata un pochino più stretta un po più in evidenza forse la strada diventava il soggetto principale dell'immagine oltre che il panorama però in questo caso è un pochino larga forse un pochino troppo distante vediamo troppi elementi molto perché il grandangolo vi dico una cosa tu hai lavorato con obiettivo grande angolare no anche con un cellulare marini inquadratura larga non è stretto lo scatto grande angolare tendenzialmente è più difficile di quello fatto con il teleobiettivo che l'obiettivo quello che era vicina stringe avvicine soggetti distanti perché perché il grande angolare in quando tu scatti una foto grande angolare devi considerare tanti piccoli elementi che possono creare interesse oppure elementi di disturbo oppure confusione in questo caso con la luce da dietro le spalle vedo che la parte in fondo a sinistra dove c'è tutta la città è un pochino appiccicata no quindi crea un po di confusione nell'immagine magari con una luce laterale andavano un pochino più in evidenza sicuramente i dettagli andavano più vedevamo ogni piccolo dettaglio anche in un'inquadratura larga ma questa luce purtroppo da dietro appiattisce un pochino la scena quindi purtroppo no come immagine la vedo come foto ricordo ma non una foto tecnica comunque continua sempre samuele scatta e manda ci altre foto dopo dai le guardiamo sempre insieme ok ok questa immagine ce l'ha mandata invece anna anna ci ha mandato questa immagine che è interessante vedo che hai utilizzato probabilmente correggimi se sbaglio un filtro hdr credo nel senso che vedo che c'è un bel range dinamico e va bene l'hdr non sono contrario l'hdr tutt'altro lo utilizzo anche io ovviamente l'hdr cos'è light dynamic range no quindi un range dinamico tra ombre mezzi toni e luci alte almeno credo che tu l'hai usato è in questo scatto perché vedo che le luci alte sono abbastanza controllate i mezzi toni lo stesso e le ombre sono schiarite quindi probabilmente è stata lavorata questa immagine non so con che processo però ci hai messo mano ti sei impegnata oltre che nello scatto nella post produzione quindi diciamo che è interessante come scatto è molto centrata ma va bene perché non c'è la regola dei terzi c'è la legge del triangolo una regola compositiva poi vediamo che il soggetto stanno molto al centro c'è la prospettiva quindi vediamo le linee che si vanno ad avvicinare quindi l'occhio tende ad andare al centro e segue questa linea centrale che è interessante ecco forse se devo criticare questa immagine dal punto di vista della post produzione ti dico che hai sbagliato un pochino a schiarire alcune ombre nel senso che se guardate all'inizio della steccionata in alto a sinistra non so se c'è una scritta mi sembra di vedere una parte lì è un pochino in ombra vedo che magari l'hai trascurata forse con il timbro non l'hai schiarita lo stesso in alto a destra dall'altro lato c'è un altro punto che sembra sempre un pochino scuro quindi è la parte proprio centrale dove mi sembra c'è un faro in fondo il faro è molto più scuro cioè sembra quasi macchiato un pochino questi si chiamano aloni nella post produzione che sono trascurabili a volte sono accettabili però se non ci sono è meglio perché l'immagine risulta più precisa sembra meno lavorata e più originale quindi ecco cura un pochino più la post produzione forse è un pochino scura come immagine nella parte centrale vedo che come scatto è curato come tecnica come tutto il resto però vedo la parte diciamo della della la parte centrale la vedo un pochino troppo scura un pochino mi disturba l'occhio finisce là vedo questa macchia scura e l'occhio torna indietro non è avvolto non vuole andare fino in fondo quasi lo rifiuta di andare avanti se tu schiarisci invece la parte centrale l'occhio ci va in maniera più mi sono dato una botta da solo sento leon che piange ancora ma forse si è svegliato ma se piange per via del del dentino quindi non credo che lo porterà qua erica vabbè io io vi aggiorno è comunque di leone erica sempre che visto che mi lo chiedete sempre quindi cerco sempre di di aggiornarvi comunque bene anna e continua anche tu così ho visto che fai buoni scatti cura un pochino più la post e cerca di non renderle troppo scure le foto almeno sui mezzi toni almeno per quello ok andiamo avanti perfetto ora cosa facciamo parliamo della lezione 4 e parleremo appunto del colore alla del colore voglio dirvi alcune cose io come fotografo sono un fotografo bianco nerista nel senso che vengo dal bianco e nero iniziato a stampare in camera oscura quando avevo il 14 anni e ora 43 anni quindi diversi anni di esperienza in camera oscura venendo dalla camera oscura sono rimasto sempre molto fedele al bianco e nero al sistema zonale alla stampa analogica però conosciuto dopo il digitale ho visto che si possono fare tante cose quindi digitale va benissimo sia per il colore che per il bianco e nero però da fotografo bianco nerista ho scoperto il colore circa otto anni fa già scattavo in colore con il colore molti anni prima ovviamente però posso dire che ho scoperto il colore a livello fotografico otto anni fa e ringrazio anche chi mi ha insegnato è il dottor architetto franco pasqualoni che lui mi fece proprio delle lezioni lo saluto anche senza se sia collegato questa sera lui è un maestro proprio un insegnante che spiega proprio l'uso del colore è un architetto quindi si occupa di tanti aspetti abbiamo fatto anche di corsi insieme fotografie colore quindi ho imparato molto da lui lo ringrazio molto di questo e niente con l'uso del colore lui mi ha praticamente aperto la mente per capire come scattare fotografia colori diversi dall'ordinario perché spesse volte uno dice la foto a colori è scontata è bella perché magari il cielo è blu quella foglia lina è rossa verde sfumata quindi quei colori vanno in evidenza e l'immagine sembra bella di per sé invece il colore va studiato nei minimi dettagli ora vediamo qualche immagine e vi spiego anche il perché qua ok allora questo è uno scatto che ho fatto proprio questa mattina 6 e mezzo mi sono alzato alle 6 ovviamente con le on però alle 6 e mezza all'incirca 6 e mezza e 40 all'incirca da quel momento lì ho messo le on attimo sulla poltrona e mentre erica stava facendo la doccia e io li per lì stavo con lui abbiamo visto questa scena insieme bellissima che il sole sorgeva quindi ho fatto qualche scatto su questa scena qua perché ho messo questa immagine qui per spiegarvi una cosa molto semplice allora quando si scatta a colori il difficile è utilizzare l'accostamento dei colori nel senso che molti credono no che il colore sia una cosa puramente artistica nel senso che quando vedi una persona vestita bene dice a quella guarda che bei colori che abbinato quella un artista in realtà non è proprio un artista colui che sa abbinare i colori e abbinare i colori è una cosa matematica non ha nulla a che vedere con l'arte dopo che ha chiaro la creatività le idee che abbiamo in testa e il gioco che facciamo con i colori è un altro discorso però conoscere il colore e poi applicarlo in fotografia è una regola matematica puramente matematica e se conosciamo come funzionano i colori possiamo applicare questa regola ogni volta allora io in questo scatto cosa ho voluto mettere in evidenza se ci fate caso la neve che visto questa notte ha nevicato e purtroppo la neve però non ce n'era tantissima gli alberi sono abbastanza pieni la mattina ancora non era caduta però diciamo era abbastanza distribuita bene ma non così tanto diciamo e dal punto di vista dell'illuminazione il sole era appena leggermente salito si intravedeva qualcosa nel cielo però nella parte dove nei due alberi che vedete davanti i tre alberi che vedete davanti la neve tenda al blu no questo blu come mai blu non l'ho modificata con photoshop è proprio così se ci fate caso la mattina quando il sole non arriva a illuminare le parti chiare tipo la neve o le case o tante cose che sono bianche ma purtroppo non ci arriva ancora il sole e cosa succede il bianco diventa con una dominante fredda molto blu è come l'ora azzurra è più o meno la stessa cosa dell'ora azzurra però al contrario quando sorge il sole piano piano l'ora azzurra se ne va invece al contrario quando è visto tramonta il sole c'è l'ora azzurra fino a che non va via il sole però la mattina succede proprio al contrario prima c'è l'ora azzurra e poi si illumina tutto quanto le parti diciamo di nu di neve che sono negli alberi così si trovavano in una zona d'ombra se ci fate caso quindi i gradi kelvin che abbiamo parlato anche all'altra volta a 5500 gradi kelvin in questo caso vengono molto freddati nel senso che le parti diciamo d'ombra sono molto più fredde quindi vediamo questo grande blu che si che si estende nell'immagine soprattutto nel primo piano e sulle parti dietro delle montagne dove non ci finisce la luce se ci fate caso il cielo la parte sopra invece abbiamo un giallo arancione un pochino che sono i colori appunto della mattina che che notiamo in quel caso io cosa ho voluto fare accostare questi due colori nell'immagine se avessi escluso la parte superiore del cielo l'immagine era un pochino quasi più monocromatica no avrei avuto giusto questo piccolo arancione rosso sugli alberi e blu realmente invece mettendo anche il giallo includendo nell'inquadratura il cielo l'immagine respira meglio ha una visione diversa dal solito questo perché vi spiego subito una cosa che allora prima regola il bianco e nero è difficile dal punto di vista tecnico saper ragionare e pensare in bianco e nero lo riconosco lo faccio ancora io amo il bianco e nero ovviamente ma il colore è molto più difficile del bianco e nero bisogna riconoscere questa cosa qua perché fare uno scatto bianco e nero a volte neutralizza alcuni colori rendi tutto omogeneo tutto con una scala di grigio elimini i colori che disturbano e questo è più semplice con il colore funziona il contrario quando voi scattate una foto a colori dovete sapere se c'è un colore che ti dà fastidio che ti porta l'attenzione di che ti distrae vi faccio un esempio immaginate in questo scatto magari c'era una persona che puliva la strada con un abito adesso magari sopra l'albero però magari immaginate ci fosse una strada c'è una persona con un vestito rosso quelle casacche magari che mettono per pulire strade o gialle ma è più rossa forse che l'occhio lo notava di più l'immagine risultava completamente rovinata per quel soggetto lì uno dice a bello ritocco con photoshop ok ok si fa tutto però realmente se lo guardate nel momento in cui scattate e c'è quell'elemento di disturbo risparmiate tempo in post produzione senza ritoccare quindi decidete di scattare immagini dove non ci sono elementi di disturbo quindi una persona vestita di rosso magari lì avrebbe attirato troppo la mia attenzione e la vostra che guardate la foto e quindi avrebbe distratto quello che era il concetto dell'immagine quindi il colore è molto più difficile basta un colore che è fuori gamma un colore che non è abbinato e ora vedremo cos'è l'abbinamento nel colore un colore che non è abbinato che ti praticamente ti rovina completamente la scena questo è il problema proprio dell'uso del colore questo perché allora dovete scoprire una cosa bisogna conoscere in fotografia i colori primari cosa sono i colori primari allora noi abbiamo nella sintesi sottrattiva tre colori primari ciano magenta e giallo il ciano magenta giallo sono i colori che utilizziamo per creare tutti gli altri colori allora nella sintesi sottrattiva che significa la sintesi sottrattiva significa che noi utilizziamo un colore fisico materico per mischiarla un altro per ottenere un'altra tonalità nella sintesi sottrattiva esempio quando utilizzate la stampante se ci fate caso dentro c'è il ciano magenta giallo questi tre colori che quando si miscelano tra loro creano tutti gli altri colori i pittori gli artisti che dipingono con i colori a olio a tempera acrilico mischiano da loro questi tre colori fanno un quadro anche solo con questi tre colori miscelandoli tra loro creando tante piccole altre tonalità queste altre piccole tonalità le ottengono grazie appunto alla miscelazione in parte uguali di questi colori a noi cosa ci serve in fotografia capire questo ci serve perché grazie alla conoscenza dei colori diciamo della sintesi sottrattiva dei colori primari possiamo capire quali sono i colori che ci stanno bene insieme agli altri vi farò vedere anche quelle foto poi molti mi dicono i colori primari sono il rgb red green blu no rosso verde blu quella della sintesi additiva non sottrattiva l'additiva qual è quella che utilizza la luce nel senso che se noi usiamo delle lampadine abbiamo tre lampadine una rossa una verde una blu le misceliamo insieme otteniamo altre tonalità di colori ma lo facciamo con la proiezione della luce in quel caso la tonalità sarà più chiara e quindi è considerata sintesi additiva la sottrattiva invece quando misceliamo i colori appunto a olio pastello oppure anche nella stampante no questo vi dico questo per un motivo molti dicono quindi noi quando utilizziamo la fotocamera che sintesi di colori utilizziamo allora quando scattiamo la foto no a livello fisico la fotocamera li memorizza con l'rgb con la sintesi additiva questo perché perché è luce quindi luce come una lampadina che si proietta nel sensore i fotodiodi catturano la luce la trasformano in rgb all'interno della macchina questo funziona a livello fisico nella fotocamera così funziona nel televisore nel computer in tutto quello che utilizza appunto la luce realmente no una proiezione diciamo di luce noi però dobbiamo ragionare come se utilizzassimo i pennelli no questo perché perché dobbiamo ragionare quasi sempre quasi sempre con la sintesi sottrattiva quindi usare ciano magente giallo come colori principali vi spiego perché dopo vabbè con pasqualoni abbiamo fatto proprio tutto il corso lo studio del disco di hit 10 che è una cosa un po complicata da spiegare ovviamente in 30 minuti di lezione quindi non vi la sto a raccontare però vi dico che utilizzare il disco di hit 10 serve a capire quali sono i colori terziari secondari da abbinare tra di loro però noi andiamo a vedere semplicemente quali sono i colori che possiamo abbinare con i colori con i colori primari con quelli complementari allora abbiamo detto prima che i colori complementari i colori primari sono giallo magenta e ciano ciano magenta giallo dipende dall'ordine come li dici no alla per sapere qual è il complementare no del colore giallo dobbiamo miscelare i due colori gli altri due colori quindi il rosso e il blu miscelando quei due colori otteniamo il viola quindi il colore complementare del giallo è il viola ricordatevi bene questo giallo con il viola il colore complementare del rosso magenta quello ciano magenta giallo no rosso magenta il come il complementare il colore verde ok del blu ciano il blu di prima il ciano sarebbe un blu diciamo un azzurrino quasi ne ho detto in maniera sbagliata direbbe pasqualoni però è un azzurrino il blu il suo complementare è l'arancione ok perché vi dico questo perché quando voi volete accostare dei colori se riuscite a miscelare insieme i due colori complementari ottenete un abbinamento di colore gradevole che l'occhio che osserva la fotografia dice wow belli questi colori mi interessano mi attraggono perché perché sono piacevoli uno non se lo sa spiegare ma una cosa puramente matematica la mente riconosce che sono abbinati tra loro quindi anche gli stilisti quando dipingono quando fanno i loro vestiti visto sulla moda così utilizzano tantissimo queste regole cercando di abbinare i colori per rendere migliore un soggetto molte persone mi dicono wow che bei colori sulle tue foto come fai io prima di tutto osservo luce composizione tutto quanto cerco di guardare sempre i colori che noto per dire questa foto qua che vedete che al parco di yosemite national park io erica siamo andati lì in un periodo preciso in autunno perché in autunno perché non è tutto verde chiaro è un verde un pochino giallo perché i colori dell'autunno sono tendenti al giallo e io volevo questi colori volevo questi colori per giocare con questi accostamenti per dire in questo caso se vedete queste immagini c'è il blu sia sopra nel cielo che nello stagno per dire che si nel fiume no che si riflette un pochino il blu lo stesso c'è anche il verde quindi come colore nell'insieme affiancato al blu e c'è anche il giallo come colori no quindi abbiamo questi tre colori in realtà però dal punto di vista della densità non abbiamo il rosso magenta non c'è il rosso magenta questo perché ho cercato di escludere c'è un puntino di rosso se ci fate caso un po in fondo però ho lavorato con un'inquadratura così larga che non si nota neanche quindi il rosso magenta che in questo caso avrebbe attirato troppa l'attenzione ho cercato di escluderlo da ogni scato se mi giravo da altre zone lo trovavo su qualche albero un pochino rossi ci stavano però in questa inquadratura ho cercato di evitare il rosso magenta il più possibile perché volevo che chi osservava le mie immagini notava questi tre colori non il rosso sapete perché ho escluso il rosso perché il rosso è il colore che l'occhio umano nota molto di più voi il colore che notate di più in assoluto è il rosso se ci fate caso la ferraria rossa una donna vestita di rosso oltre che per le forme la notate per il colore perché il rosso lo noti da da sempre perché il colore del nostro sangue quindi lo notiamo sempre se lo escludete da una scena magari il soggetto non c'è tu che osservi l'immagine non vai a cercare i toni rossi in questo caso e non trovi il tono rosso questo perché perché il colore rosso è un colore eccitante nel senso che dal punto di vista ti sveglia molto no e quindi se tu scegli di usare il colore per creare immagini che creano una certa armonia devi evitare alcuni colori come il colore rosso come in questa scena questi colori creano tranquillità rilassamento immaginate di stampare questa foto e metterla in camera ti rilassa ti da tranquillità se fosse stata con una cosa rossa forte ti avrebbe svegliato più che rilassato quindi dipende l'utilizzo delle vostre immagini faccio vedere un'altra scena per dire qua ho fatto un torrente questa avevamo nella valnerina per dire qua se ci fate caso c'è una tonalità molto fredda di colore no quindi vediamo che c'è il blu ci sta il viola e il verde come colore insa se ci fate caso il viola si trova nella parte centrale e nella piccola parte di arbusti che leggermente più sopra il verde sul ramo sopra e il blu si trova sotto proprio un blu ciano quasi un po miscelato con il viola non c'è anche qui il rosso magenta anche qui escluso quindi volevo raccontare anche nella mia immagine un colore abbastanza tranquillo come in questo caso che il sono colori un pochino più freddi non c'è appunto questo rosso acceso che ti attira quindi anche qua il blu diciamo come colore ti trasmette un po più di serenità a differenza del verde che ti dà la pace la tranquillità no il blu invece ti dà proprio serenità allora queste ipotesi che dico io no serenità tranquillità non sono ipotesi filosofiche legate alla come si chiama quando arredate una casa la cromoterapia diciamo la cromoterapia molti la vedono come una cura diciamo alternativa io non lo so non sono medico ovviamente però non è legata a questi argomenti qua è legata più a uno stato mentale che ti trasmette non è il colore che ti fa stare bene in sé è guardare il colore che fa sì che il cervello si rilassa stimola alcune parti del cervello guardando il colore e quindi ti dà quello stato di pace di eccitazione o di tranquillità a seconda di quello che tu vuoi trasmettere con le tue foto per dire ecco qua cambiamo slide ecco questa immagine qua invece che l'ho fatta sempre dentro antelope canyon in uno scatto verticale come dicevo sempre le faccio sempre più orizzontali possibile ma in questo scatto volevo scattare verticale per un motivo molto importante allora i colori che si abbinano bene tra loro sono i colori complementari quindi abbiamo detto nel ciano magenta giallo la combinazione dei colori primari ciano magenta giallo se accostiamo insieme al in questo caso il ciano consideriamo il cielo quella parte la azzurra di cielo e il colore suo complementare che è l'arancione creiamo un accostamento armonioso nel senso che voi guardate queste immagini il blu e l'arancione sono in accostamento e sono armoniosi tra di loro questo è dato perché sono due colori complementari vediamo anche in questa immagine ci sta anche il rosso magenta non c'è un complementare il complementare del rosso magenta è il verde ma non c'è quindi ho voluto accostare ovviamente non c'era verde perché non ci sono alberi però cercato di mantenere inquadrando il più possibile cercando di includere la roccia arancione con il blu del cielo quindi avere questo accostamento tra questi due colori complementari e questo rende un'immagine più armoniosa più tranquilla e tu guardandola viene attratto da quel punto blu e capisci che tra blu e arancione c'è accostamento c'è un'intesa tra i due colori se riuscite a giocare con questo le immagini sono più armoniose più precise su questa immagine qua che l'abbiamo fatta san francisco ma eravamo su una zona buighissimi di notte proprio una cosa un po anche pericolosa diciamo c'era anche gentaccia su quella zona lì diciamo ieri che eravamo abbastanza no spaventati c'è volmono piede pronto a picchiare qualcuno il treppi di lama nessuno ci ha dato fastidio però non c'era bellissima gente quella sera su questo punto qui infatti ho fatto 5 6 scatti siamo andati via però volevo vabbè a parte dal punto di vista compositivo volevo incastrare se ci fate caso le due parti del ponte una sopra l'altra perché almeno l'occhio entrava la osservava quei due punti di e aveva un effetto un pochino più particolare se ci fate caso comunque dal punto di vista anche dei colori in questo caso cercato di usare il rosso il giallo e il blu cercando di usare questi tre colori perché il rosso giallo e blu quindi riprende ciano magenta e giallo allora se vuoi fare una foto che piace un po a tutti devi usare tre colori della della sintesi sottrattiva per dire no quindi sul ciano magenta giallo se usi questi tre colori stai sicuro che piace un po a tutti quanti vi dico questo perché se guardate i discount che vendono cibo per dire a volte le loro buste che pubblicizzano diciamo i loro prodotti sono ciano magenta giallo utilizzano questi tre colori perché sono proprio per la massa la massa viene attratta da questi colori forti nel senso che sono quei colori che notiamo tutti anche se molti dicono a volte mi danno fastidio quei colori troppo accesi chiaro non ci non ti ci vestiresti penso no le usi per alcune cose però in quel caso avere quei colori accesi ciano magenta giallo insieme creano un effetto diciamo di attrazione verso tutti molti dicono wow una cosa giusta per il marketing beh dipende se il tuo marketing che attirare tutti sì ma io per dire facendo il fotografo non vuoi attirare tutti attiro certo una certa fetta di clientela che è interessato alla fotografia magari la signora che gli interessa il cibo per il cane e vede la mia pubblicità e uso colori così commerciali magari lo vede ok fa il fotografo però non mi frega niente cioè quindi lo vede ma non viene attratta quindi l'uso del colore anche nel marketing va usato in maniera precisa in base a quello che ti serve quindi in questo caso ho usato i tre colori ho cercato di non mettere altri colori però usando più colori possibili nella sintesi primaria della sintesi sottrattiva per far sì che tutti quanti la notano questa immagine e a tutti può un po piacere diciamo è un'immagine come questa invece i colori sono molto più limitati vediamo il in questo caso è un blu tendente al viola un pochettino una dominante però se volete fare una cosa più elegante invece a differenza del dei colori per la massa se volete fare una cosa più elegante dovete usare quasi sempre lo stesso colore con delle diverse gradazioni nel senso se usi un blu come se ci fate caso qua nella parte centrale che sembra quasi che c'è dell'acqua no questa era dentro mont saint michel in francia in cima hanno fatto questa cosa veramente folcloristica particolare alternativa i frati so forti hanno fatto veramente una cosa strana i draghi trovi delle proiezioni strane dentro mont saint michel una cosa veramente bella da vedere sia con i figli che anche per gli adulti diciamo quando finirà il periodo di quarantena ovviamente in questa scena mi piaceva molto il fatto che è una dominante fredda di blu quindi sia la parte che sembra che c'è l'acqua sotto e la parte sopra che c'è un viola tendente al blu sono dei colori in scala quindi crea un effetto più elegante attraente perché molto forte come colore però ha meno commerciale come colore può piacere o non può piacere io parlo del colore in questo caso il il giallo in questo caso che vedete nelle finestre è abbinato con il viola perché il viola e il giallo sono colori complementari quindi in quella zona lì vedete questo giallo che ci sta bene crea armonia tra i colori ok avanti non mi splitta la foto come mai scusate ma non me la cambia non mi piace non capisco perché scusate un attimo vado a vedere come mai non me la prende ripetizione bloccarla un attimo no non mi fa vedere le ultime due foto dispiace perché interessanti date un secondo prova ricaricarle vediamo se me le riapre ok no no non gli piacciono proprio capisco perché tempo così eccola c'è fatta non so come mai si era bloccato leggermente il programma premevo la barba così penso sentivate che con questo microfono sensibilissimo ho risentito la registrazione quando premo la barra da certe botte che ricordate che magari chi ascolta la lezione con le cuffie e spacco i timpani quindi scusate se ho premuto troppo forte vediamo si scorre comunque sia perfetto ok in questa immagine riprendendo il discorso dei colori più eleganti se ci fate caso questa è new york inquadrata dal basso con il mio 11 24 praticamente che succede in questa immagine io ho cercato di includere molto cielo nella parte centrale però ci sta a sinistra un grattacielo ciano con il colore proprio ciano quindi ho voluto giocare con il blu diciamo un blu a saturo molto acceso il ciano e poi se ci fate caso nelle finestre anche sotto c'è un po di riflesso il blu del cielo quindi la dominante principale di questa immagine è proprio il blu e il ciano quindi tenendo allineati tra loro questi colori l'immagine risulta più elegante c'è un po di giallo questo caso che è il complementare anche questo del viola infatti il cielo se ci fate caso su alcune zone tende un pochino al viola no allora per dare anche ecco vi dico un altro segreto per dare queste dominanti un pochino più viola un pochino più blu o più usato chiaramente durante la fase di scatto puoi far poco puoi giocare un po con i filtri della nisi con l'esposizione locale questo riguarda un pochino più la post produzione chiaramente dare queste sfumature tra blu e viola ovviamente no a meno che il colore non ce l'ha di per sé se il cielo è tendente al blu però voglio dargli una piccola dominante viola l'occhio ci cade più io ho voluto aumentare la lato viola della foto in basso a sinistra di qua lo vedete di qua scusate ok un pochino più viola questo perché perché l'occhio cadeva tra il palazzo diciamo ciano e il viola in basso a sinistra di modo che notava questo contrasto tra i due per dire poi il giallo che si riflette sia un pochino sugli alberi che sul sul palazzi e via dicendo però il giallo è naturale quello del sole che rimbalza lì il viola l'ho un pochino modificato con con lightroom con che con i preset che ho creato non so se l'avete notati no un ragazzo mi ha fatto i complimenti l'altra volta che l'acquistati sul mio sito scuola di fotografia fm oltre che corsi di fotografia che vendo anche i miei preset sia per amatori che per professionisti sia per i matrimoni cerimoni eventi fine art e quindi clicchi il tasto e ti dà magari la dominante più viola più gialla adatta a questo tipo di fotografia o altri generi se vi interessa andate in occhiata al sito magari se avete problemi o volete qualche spiegazione contattatemi vi spiegherò meglio comunque farò anche un video come per spiegare come si usano i preset su lightroom che è una cosa molto interessante perché come dicevo prima la post produzione è parte integrante della fotografia e quindi utilizzare i preset serve a velocizzare il flusso di lavoro serve a ottenere esattamente quello che vorrei fare arrivare alla conclusione del tuo scatto in maniera precisa ok perfetto questa è un'altra immagine che ho fatto l'avete vista penso nella prima lezione non era nella diretta facebook eravamo forse 40 50 persone ora visto siamo riusciti a raggiungere più persone anche perché il programmino che utilizzavo l'altra volta molte persone non erano in grado di scaricarlo allora ho preferito passare sulla diretta facebook proprio per raggiungere un po tutti quanti quelli che magari non avevano possibilità di installare il programmino e quindi tramite diciamo facebook almeno anche i miei genitori mi guardano ogni tanto perché sennò loro dicono quel programmino io non l'installo va bene e il mio padre infatti ha detto vuoi seguire le lezioni e poi mio padre dipinge quindi vuole sentire quello che dico male della pittura a favore della fotografia quindi vuole seguirmi per questo a volte però con la diretta facebook almeno è più facile visto ci arrivate più comodamente poi riusciamo a condividerla anche sui profili e su altri punti quindi è molto meglio bene parlando di questa immagine cosa volevo dire che praticamente se ci fate caso il blu di questa immagine è così esce così lo scatto un unico scatto non ho usato hdr ho usato forse un po il filtro dell'anisi sopra per abbassare il contrasto del cielo per abbassare un po se non era troppo chiaro la parte alta leggermente basta però per il resto non è né hdr né fotomontaggio come alcuni mi hanno chiesto no no realmente è proprio così questo scatto perché era quella nebbia bellissima che c'è stata qualche buon anno fa e da sì se abbiamo visto questa scena molto bella la realizzazione di questo scatto perché quando ero lì con erica avevo fatto tanti scatti con la nebbia bellissima ho detto dai ho posto ci do le foto torniamo a casa lei mi fa ma aspetta un altro pochino che tra poco ce l'ho razzurra è vero ero quasi dimenticato e quindi lei mi ha ricordato di aspettare per fortuna vedi a volte alcune mogli ti dicono adian basta hai fatto le foto andiamo via invece lei su questo ha detto no guarda so che vuoi aspettare un pochino più aspettiamo un attimino quindi grazie a lei ho fatto questo scatto perché se fossi andato via prima avrei perso l'ora azzurra e questo scatto non l'avrei fatto mai quindi un mio consiglio anche questo prendete il vostro tempo il mio maestro jim morlan diceva sempre take your time prendi il tuo tempo non ti far forzare o bisogna andare ora se tu vuoi fare una foto e ti senti ispirato aspetta e falla se uno ti mette fretta mandala col paese vai vai arrivo dopo fai la foto che vuoi prima regola della fotografia allora è importantissimo dire una cosa su questa immagine allora come ho detto prima non l'ho ritoccata è così proprio e poi nei corsi che faccio a studio di lightroom e photoshop a volte faccio post produrre questa foto partendo da zero faccio bellissimo faccio caricare il file raw di questo scatto che erro è un file grezzo come esce praticamente dalla fotocamera e dico ai miei studenti resetta tu resetti è così forse leggermente meno saturo il colore però è uguale infatti mi piace far post produrre le mie foto ai miei allievi perché a volte vedono proprio che lo scatto va bene di partenza dopo poi ritoccarlo fai quello che vuoi ma lo scatto di partenza fallo bene se lo fai bene ottieni sempre meglio se devi ritoccare già con l'idea di ritoccare allora parti male parti con l'idea che non devi ritoccare la foto perché se la devi ritoccare vuol dire che sei un buon ritoccatore non un bravo fotografo mio maestro diceva a jim morland anche questo perché all'epoca della pellicola molti dicono nella pellicola non si ritoccava non è vero nella pellicola si ritoccava come il ritocco prevalentemente in pellicola in analogico quando si stampava in camera oscura sapete dove era quando stampavate le vostre foto e a volte succedeva che c'erano dei piccoli filini cioè magari della della polvere non dell'ingranditore quando proiettavi l'immagine sul piano focale stampavi la foto rimanevano questi piccoli segnini e con il pennellino con l'inchiostro di china andavi lì a spennellare quindi a ritoccare questo piccolo difetto e io di questa cosa ero diventato molto bravo col pennellino andavo a togliere questi piccoli diciamo filini che rimanevano proiettati nella foto e quindi ne ritoccavo tante e jim morland una volta mi disse ah sei bravo a ritoccare però non sei bravo a scattare ah grazie il mio maestro all'epoca il mio maestro ogni foto che vedeva me la scartava finché non era perfetta e tori falla quindi era cattivissimo con me su questo però dopo che l'abbiamo rincontrato io e erica dopo 13 anni che non lo vedevo più mi ha fatto i più bei complimenti penso che nessuno mi ha mai fatto non mi può fare tutti i complimenti del mondo ma detti dal mio maestro jim morland mi ha detto guarda mi hai superato hai raggiunto il mio livello sei diventato un grande io sei ubriaco una perché gli irlandesi ha visto no dringo detto detto da lui che lui ogni foto che presentavo no sbagliata rifalla quindi mi ha sempre voluto rendere perfezionista ogni volta che scatta una foto trovava 3000 difetti e questo mi ha servito molto comunque perché io continuato a fare così cioè quando non non facevo più il suo assistente l'ho fatto per quasi quattro anni e lui c'è questo suo insegnamento di auto criticarmi trovare i difetti nelle mie foto me lo son portato dietro quindi ho continuato a seguire il suo insegnamento che questo dell'autocritica è uno dei più belli che mi ha insegnato e quindi detto da lui un complimento quando ha visto alcune foto tecnicamente di un certo livello e mi ha fatto questi complimenti guardi con la verità mi ha fatto veramente molto più molto piacere poi averlo fatto conoscere a erica poi dopo poco poco dopo è morto lui purtroppo però mi ha fatto piacere perché erica l'ha conosciuto di persona quindi tutte le storie che raccontavo di lui le sue foto stampate in camera oscura lui le ha fatte vedere quindi è stato un bel ricordo piccola parentesi della mia vita ogni tanto mi piace raccontare bene parlando di questa foto poi volevo dire questo al di fuori dello scatto in sé guardate bene i colori che ho utilizzato allora l'unica variante che ho fatto in post produzione di questa foto è dare una piccola dominante viola vicino alla chiesa fateci caso una piccola dominante viola è blu ma ho voluto leggermente un po di viola perché il viola il viola grazie michela perché il viola perché è accostato con il giallo perché come dicevo prima il giallo e il complementare è il viola quindi a fianco sono armoniosi quindi vediamo il blu che si estende fino a salire e il blu qual è il suo complementare l'arancione se voi andate fino in cima il blu vedete quella linea quella striscia in fondo del sole che sta tramontando che è arancione infatti è abbinata con il blu della parte della nebbia che si vede sotto e sopra c'è il giallo del cielo sempre che riprende l'abbinamento con il viola che è la montagna di perugia quella è proprio perugia no la vetta che vedete là e quindi la parte là che tende al viola è abbinato con il giallo le uniche variazioni che ho fatto in questa foto sono proprio questo dare un pochino di viola diciamo alle alla dominante del blu che che c'era come ho fatto a tirare fuori questo blu come nella foto iniziale che vi ho fatto vedere che ho fatto questa mattina no utilizzato 5500 gradi kelvin quindi la temperatura del colore del sole che se il sole sparisce diventa molto più più fredda l'immagine venendo molto più fredda e i colori diventano tendenti al blu quindi ha un'ora azzurra chiamata proprio l'ora azzurra e sopra c'è l'ora d'oro data dal fatto che il la nebbia sta più bassa quindi è come se fossero delle nuvole però io stavo più in alto quindi vedevo la nebbia dall'alto sono tante nuvole poi usato 13 secondi di esposizione per un tempo abbastanza lento per far sì che se ci fate caso la nebbia si muove un pochino fa questo movimento qua sembra in movimento sembra un mare questo è dato da un tempo lento perché la nebbia non è ferma come le nuvole si sposta in base al vento quindi se dai 13 secondi di esposizione in quei 13 secondi si è spostata quindi ha creato un effetto leggero di mosso questo effetto di mosso volevo far sì che chi osservava l'immagine gli dava la sensazione che era tutto in movimento non fosse statica e quindi l'effetto è questo qua faccio vedere l'ultima immagine partita ok questa invece l'ho fatta new york sempre la skyline di new york all'ora azzurra infatti fateci caso il cielo è blu quando fate foto in notturna non le fate quando già il sole è sparito da qualche ora dicevo vado a farle foto in notturna partita alle 11 di sera no dovete partire quando ancora c'è il sole recarvi nel posto giusto quando il sole è ancora alto osservare piano piano che va via il sole che tramonta oppure anche la mattina ovviamente però la mattina magari non trovi tutte queste luci accese no perché fino a una certa ora rimangono accese dopo magari le tre quattro di notte alcune le spengono quindi è meglio farle la sera se volete fare la skyline più che la mattina per quanto riguarda la skyline delle città e in questo caso il ponte di brooklyn no visto da questa prospettiva che a dire che che cosa voglio dire di questa foto per quanto riguarda i colori se ci fate caso si vede rispecchiato nella zon nel fiume sotto il i grattacieli sopra e le luci infatti se ci fate casa anche qui ho usato un tempo lento questo tempo lento ha fatto questo effetto di mosso dell'acqua sembra quasi un dipinto no l'effetto di dipinto proprio dell'acqua perché questo micro movimento che fa l'acqua ma non proprio micro anche abbastanza forte anzi direi però nello scatto è non è esagerato non è che è una corsa velocissima crea questo effetto proprio di mosso anche quello ho fatto dieci secondi di esposizione per far sì che l'effetto diciamo mosso fosse abbastanza evidente in questo caso vediamo molti colori quindi un'immagine che attrae tutti come quella di assisi mari può attrarre solo alcune persone per alcuni colori complementari questa immagine ha diciamo un po tutti i colori della della sintesi additiva per sottrattiva c'è un magenta giallo li vediamo un po dappertutto li vediamo anche sfumati tra di loro vediamo il blu del cielo sopra che magari tende a essere un blu cobalto e il il blu del nomine purtroppo leone non si è svegliato mi dispiace volevo dire ancora i nonni che probabilmente stanno aspettando quindi niente quando si sveglierà vi faccio la videochiamata come sempre se ci riusciamo e quindi niente leone niente erica questa sera mi dispiace e quindi ecco e concludo dicendovi questo che per ottenere questi colori ovviamente non dovete per forza pensare subito alla post produzione ma dovete andare lì nel momento giusto in cui si forma l'ora azzurra quindi la luce blu e tutto quanto usare un tempo lento per fare questo mosso un pochino sull'acqua e cercate anche di quando scattate escludete se ci sono colori fuori gamma qui volevo un po tutti i colori nessun colore per me fuori gamma perché un insieme di colori che sono armoniosi anche se creano molto movimento sono molto dinamici molto ti svegliano molto i colori così non ti creano tranquillità ti svegliano quindi una foto così mare non la mette in camera la puoi mettere in sala in corridoio o c'è un ufficio per dire che ti mantiene il ritmo un pochino più alto bene siamo arrivati alla conclusione di questa lezione ci vediamo dopo domani per la prossima lezione spero che vi sia piaciuta se avete delle domande dei commenti da farmi mandatemi anche privatamente e come dicevo prima se vi servono i preset volete post produrre le vostre foto utilizzando dei preset che ho creato andate sul mio sito scuola di fotografia fm date un'occhiata anche a magari ai consigli che vi danno anche quelli che hanno acquistati che vedono anche il loro co ci sono scritti i loro commenti ok e niente fatemi sapere qualsiasi cosa se vi serve delle informazioni in tutti i casi ci vediamo dopo domani grazie e buona serata ciao